Ciao ragazzi, oggi mentre andavo fuori, ho visto questa strana scatola e adesso chiamo mio fratello perché voglio che mi stiate un po'. Fangi, vieni, ho trovato questa scatola! Cosa c'è il fede? Ho trovato questa scatola mentre andavo fuori e non so cosa c'è ancora dentro. Sicuramente sarà una scatola vuota dove ci sarà un regalo che forse hanno buttato via la scatola. No, sarà sicuramente un'opera strana. Degli slime? Slime? Ora qua! Quello degli slime. Wow, ok. Tiriamo fuori. Questa è quella che abbiamo trovato. Mi devo trovare in una scatola prima. Vabbè, il primo slime che andremo ad aprire è quello brillantinoso, uno per uno, Fede, il primo lo apro io. Vuoi farsi? Che bello. Tira fuori. Senti. Wow, tiriamolo fuori. Fa pure distanere i rumori, ragazzi. Guardatela qua. Sentite il rumore. Ma adesso, Franci, mi sa che dobbiamo ficcarlo dentro. Adesso tu apri il secondo. Sceglilo tu a caso. Aspetta, dobbiamo un po' allargarlo. Perché sennò non ci stanno gli altri. Una piedina bianca. Una piedina bianca. Le piedine quando vengono state. Il secondo lo aprirai tu. E' questo? Non è. No, è questo il secondo, Franci. Sì, ce n'è. Ah, quello qua. Sì, quello. Andiamo. Andiamo a mischiarlo. Con quello trasparente lo mischiamo per belino. Adesso ce ne sono rimasti tre. E apriamo questi. Questo lo andrò ad aprire di nuovo io. E lo andiamo a mischiare. Tocca a me a mischiare. Questa qua è una sabbia. Non è. Provo, cameraman. È molto rilassante. Adesso, ragazzi, tocca a me. Questo tutto rosa scelto. Lo mettiamo qua. Mescoliamo. E allarghiamo. Adesso, Franci, vai tu. Mettilo. Ma sentite? E' una palla. Sembra plastica. Adesso è il momento più bello. Il momento degli stassi. Molto strano, vero, cameraman? Adesso inizio io. Io andrò ad aggiungere con i verbi. E adesso. Guardate, ragazzi. Adesso andrò ad aprire questi. Anche gli smarties. Fai gli uscire, mi raccomando. Mi raccomando. Mi menzzi. Metti lì. Mi menzzi. Adesso andrò a mettere questo. Quello di corno. Lo apri camera a me, per favore. Gli eme nè. Non li abbiamo mica fatti vedere, guarda. Gli eme nè dentro. C'è un altro, ragazzi. Credo rosso. Sì, infatti. Mi viene fa rosa. Fatevi vedere piano piano, che sono bellissimi. Io vado ad aggiungere questo, ragazzi. Un unicorno e un lecca-lecca. E degli stranini. E' bellissimo. Ragazzi, se sentite questa baia, è bullo che abbaia. Perché papà lo sta facendo ridere. Gli col piede gli fa paura. Franci, vai tu. Mascoliamo per venino. Il mio unicorno deve starci. Ecco, Franci, puoi andare. Adesso io. Che belle, guardate. Cosa sono? Sono palline tutte colorate. No, ci sono i dolci. Sono dolci, guarda. Torte. Ma hai visto che sono torte? Sono bellissime torte. Adesso andrò a aggiungere dei pallini colorati. Grazie. Le palline colorate con dei pezzi anche di torta. Bellissimi. Il mio povero letto. Adesso. Io andrò ad aprire questi. Cos'è la bustina? Cosa c'è dentro? Ci sono tipo degli stigerini. Ehi, tutti i frutti sono. Frutti, fiori. Che bello. Le hanno anche un profumo. Sono profumati. Suatali bene, ci sono ancora qua dentro. Ragazzi andrò ad aprire questo. Cosa c'è lì dentro? Dei dolcini. Fai vedere meglio. Che bello, bellissimi. Questo qua. Adesso? Adesso io andrò ad aprire questi. Ma direi che può bastare così, sono talmente pieni. No, 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 no. No, dopo diventa un frutto. Dopo è troppo. Adesso. Dopo è troppo. No, 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 questi sono belli, li aggiungiamo. Allora, aggiungiamo anche quelli, esageriamo, esageriamo. Esageriamo, che sono un forco. Ma sono di gomma questi. Questi cosa sono? Eh, questi sono dei fiori. Sono gommini. Fateli vedere, di gomma. Che bello. Bellissimi. Guardate mentre li mescoliamo. Sentite il suono. Sshh. Ragazzi ho fatto le cani che le penne. Sshh. Ragazzi non sapete che fatica che è a mescolarli questi slime. Ma sono tantissimi. Il mio povero letto ancora. È diventato un letto tutto. Slime. Qui ce n'è uno, tu lo mettilo. Uno è rimasto solo che non vuole scendere. Scendi. Non scende. Voglio fare lui se non scende. Stai là da solo. Dalle 30. La cartazza. Questi qua sono gommini. Qua sono degli altri, mettetele. Tutti quelli che si sono persi. Ragazzi che bello. Ah, senti eh. Wow. Eh che bello. Dà un gusto a trocce. È vero? Abbiamo fatto questi slime. Ma è bellissimo. A livello sensoriale. Proprio bello. Proprio bello, bello, bello. È molto stimolante. Ragazzi vi immaginate. Io pensavo che veniva fuori un mardoncino brutto. Infatti non è venuto un arcobaleno. Multicolor. Sì, anche se non so come faremmo a staccarli. Ma sono rimasti così. Dell'azzurro. No, ma voglio prenderlo io. L'azurro è proprio bello. Questa pastina sottile e azzurrile. È bello. Guarda qua. Ho trovato leccalecca di prima. Me lo mangio. No, non mangiarti leccalecca finito. Mi be' nervoso, mi mangio. Sono buoni? Guardate ragazzi, non c'è più. Che vero d'umore. Che gusto. Impastiamo tutto. Gusti. Ah, non il carno. Un M&M's. Che bello. Ti dà un M&M's. No, voglio lo slime. Nero. Tira. Ma con le gratitudini più nero. Guarda qua. Guardate. Che bella pasta. Bellissimo, davvero. È molto bello, eh. Impastare tutto. Io sto impostando di qua. Fai vedere la mia impostazione di impasto. Guarda. Sono rimaste le tortine. Guarda che belle tortine. I fiorellini. Li metto dentro. E siamo, non siamo sullette in realtà. In realtà siete sul mio letto. Tutti, raga, noi, tutti noi siamo sul suo letto. Anche voi. Ovvio. È bellissimo questo gioco, eh. Sì. Erano più belli, si è andato a sparirli. Senza averli stessi mescolati. Senti che scoppietti. Sì, sono mescolati. Voglio scoppiettare anch'io. Una tortina. Qui. Sentite il mio. E fanno questo suono che è bellissimo. È molto rilassante. Sono uno Smarties. Franci, prendi uno Smarties. È quello che ho mangiato prima. E c'è pure una grande e buona torta. Che bella. Sto mescolando per bene. Ho trovato già uno Smile. Cos'è? A un moto. E poi è un profumo buonissimo. È profumato, eh. Aspetta, mangiati questo. No, no, non si mangia nulla per ridere, eh. Sì, ragazzi. Guardate, qui c'è un M&M's azzurro in mezzo, finto naturalmente. È una perlina. Facciamo soltanto così, guardate. Per finta, eh. Diciamo ai nostri amici bimbi che non sono giochi, giochi non si mangiano. Si mangia la pappa nel piatto. Perché i miei amati che guardano sto video. I miei amati che guardano sto video. Esatto. Se non devono mangiare questa roba. Sono giochi. E dopo che si è toccato tutta questa roba ci si lava anche le mani. Io no, le metto nel petto del cane così che si mangia lo slime. Dai, non scherzare. È certo che si scherzi. E non si mangia lo slime veramente. Scherzo. Non si mangia nulla. Sono giocattoli. Dei bellissimi slime, ragazzi. Mi tolgo il cerchetto che mi fa un prodotto alle orecchie. E ciao ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale. Lasciate 5 like a questo video. E intanto noi finiamo di cercare caso slime. Ciao. Ciao amici. Ciao ragazzi su Instagram.